Il primo gioco come inizio in questa season, il risultato non positivo, ma quali sono le impressioni? Non buone, sicuramente, perché ero dovuto aiutare la squadra, questo è quello che ho iniziato oggi. E mi sento che non potrei essere in modo che vogliono, perché sono inizio per aiutare tutti a giocare. Quindi se non posso fare questo, significa che non è buono per me e non è buono per loro. Quindi sono molto triste per questo. Un buon start, Torento ha mostrato la qualità. Che prendi a casa positiva da questo gioco? Non lo so, sono una buona squadra, tutti lo conoscono. Ma non posso dire che non possiamo vincere. Possiamo vincere, e abbiamo visto questo nel primo gioco. Ma dopo ci siamo iniziati a giocare. Ci sono solo un piccolo gioco. Ok, sono buoni, ma possono perdere. E possiamo vincere. Questo è l'unica cosa che posso dire. Ora per il lavoro per preparare Catania per un altro gioco importante. Per esempio, abbiamo visto questo gioco e pensiamo al prossimo. Ma questa gioco è stata molto importante per noi, se vincere. Ma abbiamo provato, vedo che tutti provano a giocare, ma non funziona. Ok, abbiamo avuto un'altra possibilità. Quindi l'importante cosa è di sapere. Ora abbiamo saputo due volte. Ora ho spero che ci avremo in un gioco. E possiamo fare la nostra rivoluzione. Per Catania, sicuramente, faremo il nostro meglio. Per vincere 3-0 o 3-1. Ma 3-0 è meglio per noi. Grazie. Grazie.